Sto giocando molto la Coppa, ma quando ho la possibilità di giocare voglio fare il meglio di me. Una stagione non fortunatissima la tua perché hai avuto un infortunio. Quanto ti è costato, quanto ti ha frenato questo infortunio? Sì, sono infortunato da tre mesi fa, quindi sono fermo tre mesi, quindi ho iniziato a giocare e tranquillo per quello. Come stai ora? Ora mi trovo bene, tranquillo, allenando forte e niente, aspettando il momento. Hai recuperato? Sì, sì. Manca un mese alla fine della stagione regolare, il Teramo è impegnato sia in campionato che in Coppa Italia, sono due obiettivi che volete provare a raggiungere? Sì, siamo contenti per quello che abbiamo fatto nel campionato, pure la Coppa, ma ancora manca un po', ma dobbiamo continuare così che lo stiamo facendo bene. Senti, il primo obiettivo, ma non è il primo per voi perché il primo è il campionato, ma c'è il ritorno di Coppa, Paternò, quante possibilità è il Teramo di arrivare in finale? Ce l'abbiamo tutta la possibilità perché siamo una bella squadra, un bel gruppo, quindi dobbiamo continuare facendo questo che stiamo facendo e niente, penso che la possibilità ci sta. Senti, come ha detto la collega, sei stato un po' sfortunato questa stagione, avresti voglia di restare per giocarti le tue possibilità anche l'anno prossimo qui a Teramo? Sì, sì, io non penso all'anno prossimo, ma voglio stare qua, ma niente, effetti ando. Per lo spazio che hai avuto ti aspettavi una stagione diversa, a parte l'infortunio di avere più spazio in squadra, più inserimenti? Sì, sì, ma dopo ho arrivato e ho visto che tutti i ragazzi sono troppo forti, quindi ho capito come erano i discorsi. E hai accettato anche di buon grado la panchina? Sì, sì, così niente. Qui sta la forza della squadra, vero? Sì, sì, è vero. Siamo tutti ragazzi forti, quindi niente, è così, il calcio è così. Gli auguri di buona Pasqua in spagnolo. Sì, felice Pasqua per a tutti. Lo sai che ti ha famo tu, ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Paccasano combata po', gli mancazza, è bello non è. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.